Mi amo la natura, amo la campagna, amo tutto quello che vedo intorno a me, ma quando vedo spettacoli così dentro di me è una rabbia, una rabbia. Quello che vede il signor Lovisetto durante le sue quotidiane passeggiate immerso nel verde a San Giuseppe sono cumuli di rifiuti abbandonati ai bordi delle strade. 78 anni, il signor Silvio conosce la zona palmo a palmo e non smette di indignarsi di fronte all'inciviltà di chi trasforma quest'area verde in una discarica abusiva a cielo aperto e ha chiamato Rete Veneta. Qua si trova un po' di tutto di quello che mi ha accorso, andando nel cammino vado a Bruscandovi, per chi non conosce i Bruscandovi, c'è lì a Asparghi e Selvatici, mi passiamo a Bruscandovi, a Rosoline, a Sciopetini. E invece che cosa trova qui? In mezzo della campagna mi trovo questo spettacolo continuamente che non toloro, non toloro assolutamente perché siamo a 200 metri dalla Contarina, lì metti fuori dalla porta della Contarina che dopo qualche buona anima la porta dentro sta benedetta, la roba chi butta via così, ma non vedo queste cose qua, perché ci stufano mai a arrabbiarmi e vedo queste cose qua.